Assessore Fortini, oggi al Green Med Symposium un evento molto importante che coinvolge la scuola. Ecco, quanto è importante sensibilizzare le giovani generazioni al rispetto dell'ambiente? Estremamente importante, anche perché soprattutto i bambini più piccoli sono in grado di rieducare i propri genitori, per cui per noi possono essere una vera forza. La Regione Campania, il Presidente Vincenzo De Luca, già nei mesi scorsi ha lanciato una campagna per le scuole per la possibilità di poter piantare alberi nelle proprie strutture. Devo dire che tante sono state le scuole che hanno risposto, più di 150 per 15.000 piante che saranno poi piantate appunto nelle nostre scuole, che è anche un fatto simbolico, sicuramente può essere utile per carità per l'ambiente, ma è anche un fatto simbolico per far riflettere i nostri ragazzi su quanto sia importante prendersi cura dell'ambiente circostante.